Leggiamo quest'altra domanda. Allora, purtroppo, scrive Sissi, purtroppo sentiamo ripetere queste cose da anni e non si fa nulla, le domande sono sempre le stesse, le risposte date rimangono un'eterna allusione, siamo doloranti, depressi e stanchi quando pensate di darci davvero buone notizie. In Italia non ci sono soldi, non si fa ricerca dove vogliamo andare. Io farei rispondere a lei, allora, dove vogliamo andare? Non si fa ricerca e abbiamo detto, in effetti l'Italia contribuisce in modo non indifferente alla ricerca sulle malattie rare, certo poi deve essere un lavoro d'equipe fatto con il resto del mondo per andare avanti e poi da parte delle istituzioni per incentivare ancora di più la ricerca dell'industria farmaceutica, che cosa ci vorrebbe? Innanzitutto la domanda è molto importante, la domanda che nelle aziende ci facciamo ogni giorno, perché la ricerca rappresenta il motore del sviluppo di un'azienda e la capacità di innovare è uno degli elementi chiave. Fare ricerca in Italia non è facile ma ha alcuni elementi che mi piace ricordare, sempre nella logica del bicchiere mezzo pieno che diceva prima il professore. Noi abbiamo in Italia un vantaggio competitivo importante che è dato dalla comunità scientifica, abbiamo una comunità scientifica di grandissimo livello, riconosciuta a livello internazionale, anche sulle malattie rare. Credo, professore, che in termini di pubblicazioni siamo il primo paese al mondo. Questo è un elemento importante, vuol dire che abbiamo gli ingredienti per poter lavorare. E non è vero che le aziende non investano praticamente in ricerca, non ci provano. Oggi abbiamo 66 studi clinici running, cioè che stanno praticamente attivi nel paese e di questi il 30% è in fase 3, vuol dire nell'ultimo pezzo di strada da fare prima di arrivare praticamente al commercio. Ed è un trend positivo. C'è un'Italia che ci sta provando, c'è un'Italia che ha una comunità scientifica sulla quale si può lavorare di altissimo livello. C'è un contesto che, come posso dire, nelle intenzioni e in linea di principio è molto d'accordo sul fatto che la ricerca rappresenta un motore per il paese, che quindi il farmaceo che vive di ricerca rappresenta un settore strategico, ma poi nei fatti non si riesce mai praticamente a trovare una chiusura del cerchio. Oggi alla fine un'azienda che fa ricerca e un'azienda che non fa ricerca non ha differenze di relazioni praticamente in termini istituzionali e agevolazione. Questa mancata differenza indubbiamente un po' pesa e in alcuni casi può far decidere a multinazionali di spostare praticamente gli investimenti da altre parti o di cercare praticamente aree dove indubbiamente viene premiato di più il merito, viene premiato di più questa attività. Questo non vuol dire che dobbiamo non provarci, dobbiamo praticamente continuare ad insistere su questo punto. Alcuni elementi, come posso dire, di valorizzazione del merito e di premio dell'innovazione sono arrivati anche dall'ultimo, come posso dire, governo. Io penso lei prima faceva riferimento all'accesso dell'innovazione al mercato, che è un tema molto importante. Devo dire che per le malattie rare, con l'ultimo decreto Balduzzi in cui abbiamo trovato luce e ombre, il fatto di avere un automatismo nel momento in cui venisse praticamente dichiarata e riconosciuta malattia rara nell'entrata praticamente a livello regionale, questo in teoria l'abbiamo avuto. Poi nei fatti bisogna capire se questa cosa viene veramente realizzata o se la prospettiva economicistica in qualche modo mette in secondo ordine il bisogno del paziente. Quindi si cerca magari di rallentare l'accesso per cercare di fare tornare i conti. Sì, grazie. Lei si riferisce sicuramente a quell'articolo del decreto Balduzzi, cosiddetto Balduzzi, che è entrato in vigore il primo gennaio, che stabilisce l'obbligo di rendere immediatamente disponibile il farmaco innovativo, non appena viene approvato a livello centrale, senza quei dolorosi per i pazienti passaggi attraverso i prontuari. Però vediamo se questa regola, se e come potrà essere messa in pratica. Non so poi se voi avete già idea di cosa stia succedendo a livello applicativo, perché poi le leggi si fanno e se ne perde l'orientamento. In attesa poi su questo punto torniamo. Se Ricorni voleva aggiungere qualcosa, vero? Allora, intanto prendiamo lo spunto dalla ultima domanda per dire che, tornando sempre al paradigma di apertura, è chiaro che per molte famiglie il bicchiere può essere davvero molto vuoto. Noi non stiamo in questo momento dicendo che vivere con una malattia rara oggi è qualcosa di semplice, è qualcosa che è cambiato radicalmente. Per molte famiglie la situazione è estremamente complessa ed è complessa proprio perché al di là di punte di eccellenza dal punto di vista della ricerca, è l'assistenza vicino al paziente che a volte è messa in discussione e viene limitata. Io mi sono cognato un nuovo slogan che sicuramente non dispiacerà a nessuna delle persone qui, ma oggi come oggi, anche sulla base di quello che diceva il professore Dallapiccola, il vero farmaco orfano è la riabilitazione. Noi vediamo e assistiamo costantemente, proprio per i tagli di cui si parlava poc'anzi, a situazioni in cui i bambini, il cui in questo momento la cui unica speranza di migliorare la loro qualità di vita è legata alla riabilitazione, sono in difficoltà perché la logopedista, la psicomotoricista va in maternità e per ragioni di budget non viene sostituita. Questo dobbiamo dircelo, questo è il bicchiere mezzo vuoto. E va assolutamente ribadito. L'altra cosa che ovviamente è importante dire è che la ricerca è qualcosa di complessissimo, è molto delicato e non vale, non è possibile fare una legge del tutto nulla. Certamente per certi ambiti va più avanti, per altri è più lenta. Io penso che una cosa importante che possiamo dirci è che se è vero che molte malattie rare, soprattutto quelle geneticamente determinate, come gli esempi che si facevano prima, non sono guaribili, dobbiamo dire e siamo convinti che tutte sono curabili, dove per curabili vuol dire sono condizioni di cui ci si deve e ci si può prendere cura. Questo è un messaggio fondamentale che i pediatri sentono in maniera assolutamente forte, ma che è un messaggio condiviso oramai da tutti. E poi per cura si intende non solo cura farmacologica, non solo terapie, ma anche insegnanti di sostegno, assistenza a domicilio, assistenti che possono sostituire i genitori per consentire loro di andare a mangiare una pizza fuori, perché la salute mentale del genitore che assiste a un bambino con una malattia rara è fondamentale, perché ricordiamoci che parliamo di famiglie che spesso devono rinunciare, perlomeno uno dei due genitori, al loro lavoro per seguire il bambino. Questa domanda, la cui risposta può essere interessante per tutti, perché ci parla un genitore che rappresenta un piccolissimo gruppo, tre coppie di genitori con figli, di una sindrome che si chiama PHTS, stanno cercando di costituirsi come associazione, hanno poca esperienza, esiguità di risorse e chiedono come possono fare per non disperdere le loro energie, e dicono che tutti arriverebbero a non più di 300 persone, che commentavamo qui prima, non sono poi un gruppo così esiguo, visto che io ho parlato con associazioni che rappresentano ancora meno pazienti. Allora, Mazzella, che consigli possiamo dare a questo signore? Allora, io dico questo, esiste sicuramente un percorso che tutte le famiglie fanno iniziale, che è la condivisione delle esperienze. Il valore aggiunto che dà l'associazionismo è quello di condividere la propria esperienza con quella di altre famiglie. Questo rafforza sicuramente la consapevolezza che si può anche uscire fuori da questo tunnel, che è la malattia rara, con l'esperienza di altri, quindi leggendo nell'esperienza delle altre persone. E ovviamente fatto questo passaggio, che è più un passaggio, diciamo, psicologico, di vivere la malattia rara non nell'oscurità, ma nella piena luce, quindi dichiararsi in qualche modo malattie rari, si tratta poi di riprendere un percorso di tipo amministrativo, burocratico, nella costituzione di un'associazione vera e propria, con un suo riconoscimento di associazione di volontariato, o lusso, o di promozione sociale, che dà poi dei diritti, praticamente, delle garanzie di accesso anche a, per esempio, il 5x1000, se poi si riesce, quindi un minimo, diciamo, di fondi che possono essere messi a disposizione. Ma solitamente le associazioni, nella fase iniziale, nello start-up, navigano, diciamo, attraverso un tantam, attraverso le amicizie, attraverso tutta una serie di fundraising che riesce, diciamo, a drenare delle piccole risorse e a partire per poi svolgere questa prima azione, che è l'azione di condivisione delle esperienze. Ci sono poi dei canali tematici, ovviamente, cioè ci sono dei portali, a partire da Orphanet, dalla stessa rete malattierare della dottoressa De Bach e altri canali tematici, che consentono poi, attraverso l'inserimento della propria storia, o proprio anche della propria associazione, di contattare altre famiglie. E questo consente poi di uscire sempre fuori da questo isolamento. Ci tengo molto a precisare il fatto che spesso le terapie funzionano meglio, se si esce fuori da questo isolamento, se si riesce a condividere l'esperienza con altre famiglie e migliorano, diciamo, sempre di più nel momento in cui questa internazionalizzazione aumenta, quindi con la conoscenza di altre esperienze nazionali e internazionali. E adesso con i mezzi che abbiamo, con internet, eccetera, questo è sicuramente possibile. Grazie. Io vorrei tornare un attimo indietro alla domanda precedente. Non è vero, non sono d'accordo che in Italia non si faccia nulla. Il momento storico, certo, non è affatto brillante. Ci sono serie difficoltà economiche, l'abbiamo visto in tutti i campi, però il modello italiano viene preso come riferimento anche all'estero. Insomma, io sento nei convegni all'estero, c'è grande attenzione a quello che si fa qui da noi. Il problema è che poi, mi riferisco a quello che ha detto il professor Dallapiccola prima, non sempre i centri di riferimento sono quelli più indicati per costituire un riferimento per le malattie rare, perché non sempre, anzi spesso, purtroppo, queste etichette centro specialistico per la malattia rara non corrisponde poi ad una competenza e l'esperienza dovuta. Io adesso chiamo in causa Selicorni perché purtroppo c'è qualcuno che non è contento della pediatria in generale, però è sempre un'invocazione. Ci sono ancora tante lacune, scrive Gioioso, ci sono ancora tante lacune per i pediatri di famiglia che non conoscono le malattie rare, quella di mio figlio è l'asma, ma ci vorrebbe conoscenza, più conoscenza, magari corsi per conoscere bene queste malattie. Io ovviamente non posso contestare quello che viene detto. Certamente non stiamo dicendo che tutti i pediatri sono al top. Quello che ci stiamo sforzando di fare davvero in modo molto capillare è andare regione per regione, provincia per provincia, a formare i pediatri, a interessarli, a cercare di spiegare loro che anche loro centrano, anche loro fanno la differenza nell'assistenza di un bambino con malattia rare. È chiaro che l'asma è una malattia estremamente complessa, che ha bisogno di assistenza super specialistica, ma ha bisogno anche di avere un pediatra di famiglia vicino. Io lavoro in un centro di riferimento, ma posso dire con un'assoluta certezza che le famiglie che io ho trovato, anche con malattie molto gravi, molto disabilitanti, che ho trovato più serene, più equilibrate, sono quelle che avevano avuto un percorso diagnostico adeguato, ma che avevano a fianco un pediatra di famiglia che sa fare il suo mestiere. È un lavoro fondamentale e per questo io posso solo dire che la pediatria italiana sta veramente cercando di spingere, in questo senso, una anticipazione che possiamo dare al prossimo congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria a Bologna. ci sarà un'intera sessione, un intero corso su quella che stiamo chiamando la pediatria della disabilità, che è esattamente quello di cui ha bisogno il signor Gioioso, cioè un pediatra che sappia gestire i problemi quotidiani, mangiare, scaricarsi, respirare, di questi bambini molto complessi. Sì, anche perché si continua a dire, i vecchi pediatri, pediatri delle generazioni non più giovani, le malattie rare le hanno conosciute attraverso tre righe scritte sui libri di testo, adesso anche questo cambierà, magari ci vorrebbero, anche se non dei veri e propri esami, però dei corsi obbligatori, specifici, che forse stanno per partire in qualche università. Poi magari su questo ci torniamo. Qui una domanda che rivolgerei al professor Dallapiccola, questo nostro ascoltatore, lettore, ritiene che sia impossibile fare ricerca in Italia, dobbiamo pensare di farla nel mondo, cioè l'Italia deve essere inserita in una rete perlomeno europea di ricerca sulle malattie rare, anche per non disperdere le poche risorse che ci sono. Credete che sia possibile pensare ad una ricerca europea? Ma questo in parte si fa. Vorrei dire, non ho una visione così pessimistica come questo ascoltatore e questo nostro interlocutore, perché altrettivamente farei fatica a dire perché sono rimasto in Italia, nonostante le difficoltà. Abbiamo sottolineato i problemi che esistono, ad esempio in termini di finanziamento, che è la cosa, la lamentela più banale che possiamo fare, però abbiamo sentito che qualcosa è cambiato, abbiamo sentito prima la ricerca farmacologica che i risultati importanti sta facendo, con le difficoltà che ci ha detto ricerca farmacologica. Io nel mio piccolo, voglio dire, io partengo a un ospedale, che è un istituto di recovery e cura a carattere scientifico, che nel 2012, cioè lo scorso anno, ha isolato i geni responsabili di nove malattie rare o ultra rare. Cioè abbiamo scoperto dei meccanismi e fare ricerche di questo tipo non è una cosa banalissima. Quindi voglio dire, in Italia, io ci darò il mio esempio, ma pensiamo alla ricerca che è supportata da Teleton, tanto per non dire, naturalmente che cosa sta capitando? Che i ricercatori più bravi effettivamente non lavorano nel loro ospedale, chiusi nella loro stanza. Oramai la ricerca si fa a livello europeo. Noi abbiamo appena ricevuto dalla comunità europea, nel mio ospedale, un grosso finanziamento per un lavoro che faremo in rete con 20 centri che operano in vari paesi della comunità europea. Quindi voglio dire, il ricercatore che fa la differenza è quello che è capace di competere a livello europeo, prendere dei finanziamenti, portarli in Italia. Quindi voglio dire, il problema che noi da ricercatore lamentiamo è che effettivamente c'è poca attenzione alla ricerca, che qualcuno l'ha detto prima e lo ribadisco, la ricerca è il volano per la crescita. Obama ha dimostrato chiaramente che un dollaro investito oggi ritorna indietro con 110 dollari in certi tipi di ricerche che hanno fatto negli Stati Uniti. Questo sembra che sia un qualcosa che la nostra politica da decenni non ha ancora capito. Quindi grandi chiacchiere, ma dal punto di vista pratico nulla è stata fatta. Quindi in questo senso le do ragione. Detto questo, quei poveri volontari che lavorano in Italia stanno facendo le cose bellissime. Io in altri tempi sono uscito molto dallo scoperto su un problema che è caratteristico di quest'Italia, che ha investito un capitale per ricamare la cosiddetta fuga dei cervelli e nessuno ha mai speso una singola parola per onorare quei ricercatori che lavorando essenzialmente in Italia hanno costruito laboratori di ricerca e hanno prodotto dei risultati. E questo fa parte di quelle discrepanze che sono tipiche in questo paese che si dà la medaglia a magari uno che è andato un anno o due anni fuori e lo si cerca di riprendere e si dimentica che invece chi ha fatto tanto stando in un paese difficile e costruendo molto in un paese difficile forse almeno una medaglia di latta gliela dovrebbero dare. Ma questo è il paese. Quindi da un lato le do ragione, ma dall'altro sempre per chi guarda la bottiglia mezza piena e sono nonostante tutto continuo a essere un ottimista le dico che la ricerca italiana della malattia rare è forte deve fare di più ma accontentiamoci di quello che sta facendo perché siamo sicuri che siamo nelle posizioni alte dell'eccellenza internazionale sulla ricerca della malattia rare. Grazie. Il signore che ci ha parlato prima di quella malattia non so se avete segnato qualcuno la sigla HPT PHTS fa una rettifica ci dice che non rappresenta 300 persone 300 sono il numero dei malati presunti perché attraverso Facebook in realtà ne hanno trovati 3 o 6 adesso senza... sì comunque sempre pochi non dobbiamo stupirci se il registro nazionale di malattia rare non riesce dopo 10 anni a dirci il numero dell'Italia per una serie di difficoltà che dipende dalla regione il sistema del vento e quant'altro e questo signore sta facendo un ottimo lavoro e probabilmente le sue estime sono ottime prendiamone atto Sì, infatti io trovo che una delle carenze uno dei problemi maggiori è proprio questa mancanza di dati ma ci sono alcune regioni ancora disorganizzate nel trasferire i dati a livello nazionale e altre che proprio non li vogliono dare mi sembra il Veneto non so perché è come se fossero gelosi dei propri registi insomma la cosa fondamentale è partire dai numeri perché dalla prima raccolta di dati ho visto che in realtà poi se proiettassero questi dati si vedrebbe che i malati rari sono in numero inferiore a quello che viene sempre stimato un milione e mezzo, tre milioni o no comunque ecco forse sto dicendo qualcosa di non vero però a maggior ragione bisognerebbe concretizzare con dei dati effettivi le stime e poi a proposito dei pediatri invece c'è una nota favorevole Eli dice sono d'accordo il ruolo dei pediatri è fondamentale io intanto vorrei chiedere al dottor Arringhieri vogliamo dire una cosa che forse l'opinione pubblica non sa bene quanti fallimenti ci sono dietro un farmaco che arriva in commercio grazie la incapacità di trasferire il valore che la ricerca ha maturato in un percorso che come diremo è complicato perché dieci anni di lavoro dà un'idea ma il numero praticamente di tentativi che portano praticamente al mercato danno una dimensione oggi dal laboratorio quando il farmaco il diciamo il progetto entra in una fase di sviluppo la possibilità la probabilità di arrivare sul mercato è del 10% quindi questo vuol dire che i primi 4-5 anni di lavoro il laboratorio ti porta ad una probabilità di accadimento probabilmente del 10% e mano a mano che ci si avvicina finita la fase 1 è del 20 finita la fase 2 praticamente sale con l'inizio della fase 3 è il 50% di probabilità di arrivare sul mercato quindi è un lavoro come posso dire ad altissimo rischio è un lavoro praticamente che non solo prevede competenze ma le competenze ed un sistema integrato non ti dà la certezza di arrivare praticamente sul mercato ed è per questo un po' ritornando praticamente al ragionamento di prima abbiamo bisogno di poter lavorare in un sistema non che riduce il rischio quello è il nostro mestiere è giusto che noi ci prendiamo in carico il rischio ma che accoglie praticamente che comprende le modalità di attuazione cioè un sistema che premia il merito è un sistema di cui assolutamente chi fa ricerca ha bisogno un sistema che garantisce un accesso ritorno alla domanda di prima oggi noi abbiamo dati in farmindustria che ci dicono che la differenza sostanzialmente fra un paziente che è nato a Berlino ed un paziente che è nato in Sicilia su alcuni farmaci supera l'anno cioè quindi diventa una lotteria del codice postale dipende da dove sei nato e alla possibilità di avere prima o dopo questo non può esistere e quindi ci sono una serie di elementi che devono essere sicuramente devono favorire il contesto è un elemento fondamentale oggi su alcuni pezzi il contesto praticamente è un contesto che ancora anche se in principio è sostanzialmente favorevole ma nei fatti praticamente non riesce ancora a dare gambe a questo aspetto perché come dicevo prima il tema dei 300 giorni è un tema importante ma vuol dire che dal momento in cui tu hai avuto un'autorizzazione europea al momento in cui riesci a mettere a disposizione di un paziente in una regione occorrono praticamente a volte veramente più di un anno e questo esclusivamente per un fattore praticamente economicistico non esiste praticamente un come posso dire un elemento concreto che in qualche modo protegge meglio l'interesse del paziente perché una volta che il prodotto per efficacia e per sicurezza ha superato la griglia regolatore europea vuol dire da questo o non crediamo più a quella griglia regolatore dobbiamo cambiarla o se la crediamo a quel punto praticamente dobbiamo poter mettere a disposizione il sistema quindi non ci lamentiamo del rischio nel nostro mestiere questo è il nostro rischio non ci dobbiamo lamentare sulla necessità di essere bravi e di accettare una sfida come diceva qualcuno prima il professore globale dobbiamo avere la capacità di confrontarci e dobbiamo come dire andare avanti esclusivamente se riusciamo a garantire un vantaggio competitivo in termini di competenza questo è il nostro mestiere e non chiediamo né sconti e non vogliamo nessun vantaggio ma una volta che questo praticamente è garantito vogliamo un sistema capace di accoglierlo che è un'esercizio che è un'esercizio che è un'esercizio che è un'esercizio che è un'esercizio